ciao da lucia oggi andiamo a fare un bel paio di pantaloncini bimba con tre piastrelle granny allora me le avete chieste all'interno del gruppo del mio gruppo facebook creando con luci franci ed è un progetto che io avevo già visto quindi ve lo faccio proprio perché volevo farlo per le mie bimbe e quindi andiamo subito a vedere come si realizza in realtà non vi farò vedere la lavorazione ma l'assemblaggio perché sono tre semplicissime piastrelle granny nella i in alto comunque vi lascerò un altro tutorial nel quale io ho usato le piastrelle granny così per chi non sapesse fare la piastrella granny può andare a vedere appunto quel tutorial io ho quindi qui tre piastrelle eccole qua le mie belle tre piastrelle granny e andremo ad assembrarle prima però di assemblarle volevo dirvi appunto le misure della piastrella quindi ogni piastrella è lavorata fino a raggiungere 13 giri quindi 13 giri per la piastrella lavorati con un uncinetto numero 4 e io li ho fatti con questo filato che è il pure cotton print ice yarns e naturalmente vi lascio sempre sotto nelle in descrizione il la pagina italia artisan dal quale potrete acquistare il filato se vi piace e volete acquistarlo appunto uguale la grandezza della piastrella è di 28 centimetri 28 centimetri per una taglia per bimba da due anni e mezzo quindi per la mia per una delle mie gemelline allora andremo ad assemblarle in questo modo piegheremo una delle piastrelle in questo modo così e le altre due verranno posizionate una così quindi in questo modo ve le metto prima aperte quindi così e così quindi cuciremo prima questa parte poi piegheremo in questo modo tutti i lembi vediamo se riesco a rimanere all'interno dell'inquadratura ecco qua tutti i nostri lembi e cuciremo l'altra parte ovviamente lasciando aperte queste parti per le gambe e questo sarà il girovita perché vedete una volta raddrizzato questo è il girovita io appunto le misure si prendono in questo modo si calcola che queste due piastrelle debbano fare da girovita quindi due piastrelle quindi sarà la circonferenza 28 nel mio caso più 28 risultato 56 la vista la vita della mia bimba ovviamente poi se sarà larga andremo a fare un bordino ma comunque questo lo vediamo poi man mano nelle rifiniture però comunque per sapere le misure ecco il girovita è il risultato di due piastrelle quindi se avete bimbi più piccoli farete meno giri di piastrella e vi fermerete quando avrete raggiunto ovviamente il girovita esatto quindi procediamo proprio con la cucitura individuiamo dritto perché ovviamente dobbiamo cucire dritto con dritto e rovescio con rovescio in questo caso io metto questo qui al dritto e questa qui al dritto e procedo in questo modo cuciremo appunto invisibile in questo modo quindi adesso vi faccio vedere come si fa la cucitura invisibile quindi prendo il mio ago dana e uso lo stesso filato poi decidete voi io uso lo stesso filato che ho utilizzato per fare le mie piastrelle quindi metto in modo che sia dritto con dritto quindi in questo caso questo è rovescio perché dobbiamo calcolare che il dritto rimanga all'esterno possiamo cucire tranquillamente sia dal dritto che dal rovescio però almeno che siano tutti e due nello stesso modo allora prendo entro nella maglia centrale dell'angolo da una parte nella maglia centrale nell'angolo dall'altra e blocco il filo in questo modo entrandoci almeno ecco qua due volte per bloccarlo così passo dentro in questo modo per fare un modino tanto poi lo fermeremo anche in altro modo ecco qua ora la cucitura invisibile si fa in questo modo allora io spero che si veda entriamo vedete che c'è si crea la catenella sul dorso della maglia ecco noi entriamo in questa catenella così e facciamo la nostra cucitura dopodiché entriamo in quella dall'altro lato così e cuciamo quindi passiamo di nuovo quella sotto così cuciamo entriamo in due poi a fianco in questo modo vedete così e cuciamo quindi facciamo questo per tutta la nostra lunghezza quando poi andremo a girare il lavoro la cucitura rimarrà sul dorso quindi all'interno delle nostre due piastrelle risulteranno affiancate e non cucite come al solito quindi entriamo di nuovo nella nostra catenella in questo modo entriamo così poi di nuovo sempre dallo stesso lato entriamo nella prossima così qua potremmo entrare direttamente in due facciamo prima guardate ne prendiamo una così e usciamo direttamente da quella dopo in questo modo ora passiamo a quella a fianco quindi sull'altra piastrella una e due così sembra difficile ma faccio fatica solo per via delle riprese della ripresa perché è semplicissima la cucitura invisibile molto facile quindi entriamo da questa catenella così ecco qui e di nuovo nella prossima così ecco qua e in queste due così ecco quindi ci vediamo in fondo alla diciamo piastrella vedete questo è il lato dove da dove io ho cucito vedete che non si vede comunque la cucitura per quello che si chiama invisibile e questo è il lato dritto quindi si vedrà ancor meno ora che abbiamo attaccato questi due lembi vedrete vedete noi uno lo dobbiamo piegare in questo modo e l'altro in questo ok già che siamo messi in questo modo non stacchiamo il filo torniamo indietro e cuciamo questo lato quindi proseguiamo girando il lavoro in questo modo così dal rovescio ecco così giriamo dal rovescio e proseguiamo proprio risalendo diciamo quindi attacchiamo quest'angolo e risaliamo così da non dover staccare il filo quindi in un'unica cucitura procediamo quindi unendo questo angolo a quest'angolo il lavoro e facciamo la stessa cosa fatta fino ad ora allora aspettate che intercetto l'angolo perché se sbagliamo insomma viene un po' stortino quindi mi attacco qui nell'angolino così ecco qui siamo attaccati ora non facciamo altro che proseguire in questo senso io adesso mentre cucivo mi sono accorta che cucendo una maglia alla volta rimane più semplice vedete proprio prendiamo qua la costina sopra ne cuciamo uno poi andiamo dall'altro lato prendiamo la costina da dentro vedete questo filo qui e tiriamo di nuovo la costina da dentro entrando dall'altra parte così ecco sotto e di nuovo la costina a fianco in questo modo da sotto e cuciamo e quindi passiamo da un lato all'altro costina per costina in modo che si uniscano bene vedete non dobbiamo neanche tirare perché nel momento in cui entriamo nella costina si avvicina da solo il la piastrella si tira da sola vedete in questo modo sempre sopra lo faccio vedere bene ecco qua mi cuciamo e di nuovo da questo lato vedete così andiamo così ecco qua quindi proseguiamo fino ad arrivare sopra arrivati in fondo al giro non faccio altro che unire con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio ecco qua voilà vedete abbiamo fatto pochissima io ho fatto veramente pochissima diminuzione voi se volete potete tranquillamente diminuire un po di più ora non vado altro che a lavorare faccio io farò il bordo steghettato che a me piace molto quindi una maglia bassa 2 catenelle e sempre nello stesso punto vado a fare altri 3 maglie alte in questo modo questo punto è il mio punto preferito lo sapete lo uso veramente per tutto vado a saltare 2 maglie alte sottostanti sulla terza vado a fare una maglia bassa 2 catenelle e di nuovo sempre nella stessa maglia vado a fare 3 maglie alte 2 vedete viene il bordo tutto seghettato quindi ne salto 2 sulla terza di nuovo maglia bassa 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte quindi facciamo questo fino a fine giro ecco qua la rifinitura di una nostra gambina ovviamente io non ho fatto il calcolo dei multipli per fare questo punto quindi me ne me ne avanzava uno niente ho fatto finta di nulla come se non ci fosse e ho chiuso a maglia bassa dove ho iniziato il giro vedete viene così dopo ovviamente nasconderemo i fili e questa è la nostra prima gambina ora vado a rifinire l'altra e poi faremo insieme ecco il girovita una volta rifinite ecco le gambe e nascosto i figli ogni tanto mi impatero scusatemi andiamo a lavorare sul punto vita il punto vita io comunque l'ho lasciato leggermente più largo quindi che cosa andrò a fare andrò a lavorare tutte le maglie saltando tutte tutti gli archetti creati dal granny così si stringerà notevolmente dopo di che farò un giro farò due o tre giri ma questo lo vediamo insieme nei quali posizionerò anche dei forellini per mettergli una catenella che farà da culis quindi ulteriormente potremo stringere in vita però visto che è molto largo è venuto veramente molto largo io vado a togliere tutti gli archetti dai miei punti voi se invece siete già giuste potete tranquillamente decidere come per le gambine di fare solo qualche diminuzione saltando qualche archetto oppure se siete giuste lavorare tutte le maglie insieme anche agli archetti vedete voi come preferite io adesso mi aggancio vedete poi andiamo a tirare dentro anche tutti i fili delle cuciture nella lavorazione quindi entro proprio nell'angolo nell'angolo del granny qui mi aggancio e vado a ecco agganciare fare la prima maglia in questo modo allora non l'ho agganciata ho strappato praticamente vediamo così ecco vado agganciarmi qui in mezzo ecco qui io faccio la maglia bassa potrete fare anche la maglia bassissima io faccio una maglia bassa e due catenelle e mi fanno tranquillamente la mia maglia alta e di conseguenza adesso vado a lavorare in tutte le maglie sottostanti nello specifico io salterò appunto l'archetto del granny quindi vedete vado a lavorare qua c'è l'archetto lo salto vado a lavorare direttamente nella prossima maglia così da apportare diciamo un restringimento già del punto vita poi andrò se necessario mettere anche la culis per stringere ulteriormente comunque proprio così lavoro solo sulle maglie alte saltando gli archetti ecco qua quindi procedo in questo modo per tutto il mio giro vedete al termine di questo giro il punto vita risulta un pelino più stretto ecco lo metto così ora vado a fare due o tre giri di maglia a rilievo perché stringa ulteriormente ma senza fare proprio delle diminuzioni di punti ma soltanto e stringa quindi faccio l'effetto bordino quindi salgo con tre catenelle ed ora lavorerò la prima maglia avvolgendola da dietro vedete passo dietro alla maglia sbuco davanti prendo il filo e chiudo una normalissima maglia alta la prossima prendo il filo passo da dietro in questo modo prendo la mia maglia e vedete una risulta rilievo davanti una risulta a rilievo dietro e farò questo lavoro vedete così dietro ve lo faccio vedere sommariamente perché in molte mie lavorazioni ho già usato questo punto vedete avvolgiamo passiamo dietro in questo modo e concludiamo la maglia alta di nuovo raccogliamo il filo la prossima la prendiamo da dietro vedete passiamo tra quella appena lavorata e quella che dobbiamo lavorare passiamo davanti così prendiamo il filo e la concludiamo quindi andiamo a fare questo alternando una maglia rilievo davanti e una maglia rilievo dietro in questo modo per due o tre giri o quanti ne vorrete voi ecco io penso che ne farò due o tre per dargli un ulteriore effetto di restringimento ma in ogni caso sappiate che poi metterò comunque una catenella a stringere in vita perché il cotone tende a cedere e non vorrei che dopo qualche volta che faccio mettere alla mia bimba questi pantaloni allarghino e inizino a cadere è vero che c'è il pannolino che tiene su ma diciamo che non sempre il pannolino può esserci e non sempre può fare questo lavoro e quindi glielo facciamo fare noi essendo che i bambini non hanno il fianco quindi tende a cadere il pantalone io consiglio di mettere ecco una culisse in vita ecco qui io procedo quindi in questo modo ovviamente al prossimo giro lavorerete così come si presentano quindi su quella rilievo davanti la lavorerete al rilievo davanti su quella rilievo dietro la lavorerete a rilievo dietro noi ci vediamo al termine di questi 3 4 giri oppure quanti deciderete di farne ecco qua io mi sono fermata solo a tre giri perché essendo estate non volevo una cosa che coprisse tanto e fosse ingombrante sotto alle magliette di cotone perché si sa il cotone è sottile e insomma avere molto ingombro sotto poi dava fastidio quindi vado a infilare una catenella fatta in precedenza vedete lunga quanto volete voi la vado a infilare e cosa faccio la infilo solo nelle maglie che sporgono in avanti quindi quelle a rilievo in avanti così sarà più comodo per noi anche infilarle vedete facciamo così facciamo passare la nostra culisse in tutto il giro del pantaloncino ecco qua in questo modo vedete dentro solo in quelle a rilievo davanti così anche bella alza un po il rilievo e ecco qua rimane bellina da vedere quindi faccio tutto questo lavoro lo facciamo insieme tanto questo velocissimo è veramente veloce come lavoro diciamo che la mia spillabaglia ha la testa un po grossa per questo filato quindi un po fa fatica ad entrare però noi ci troviamo lo stesso è così allora così ecco qua in tutte quelle a rilievo entriamo 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 in questo modo ecco qui quando ho saltata una vabbè andrò a recuperare dopo adesso volevo farvelo vedere finito poi lo recupererò qui sono quasi arrivata è molto semplice anche infilare in questo modo sono in quelli a rilievo davanti e viene un lavoro fatto bene perché ripeto i bambini non hanno il punto vita anzi a volte hanno anche la panciotta un po più sporgente e quindi rischiamo di fargli cadere le braghe come si dice ecco qua guardate solo per farlo scappare fortunatamente rimasto qui rientro in camera uscito ecco qui siamo arrivate ecco qui stacchiamo la spillabaglia e abbiamo finito il nostro pantaloncino vedete ulteriormente si è stretto perché ovviamente abbiamo anche il nostro fiocchettino poi quando le avranno ad osso ecco si allargherà a seconda di quanto serve il punto vita però vedete quando l'indossano poi hanno il cavallo molto basso con tutto questo largo in mezzo e il pantaloncino è finito così vediamo se riesco ad alzare un pochino la veduta ecco qua ecco qui vedete il nostro pantaloncino è terminato io spero vi sia piaciuto questo tutorial ho una aggiunta adesso la vado a prendere e ve la faccio vedere io volevo che questo fosse un completino e quindi ho fatto una bandanina vedete chiusa da un bottoncino qui e potete usarla da bandana se è un maschietto da mettere al collo e diventa molto grazioso avere la magliettina con su la bandanina che si può usare anche da bavaglino è se il bimbo è molto piccolo con un bottoncino vedete andiamo ad agganciare in uno dei forigrenni e abbiamo fatto la bandanina nel caso della bimba si può mettere anche io l'ho fatta della dimensione della testa della mia bimba quindi questa sarà la circonferenza della testa della mia bimba e se volete vi dico anche quanto misura così non ha una bimba sotto mano può farlo lo stesso il mio triangolino misura ecco qua 42 cm 42 cm poi andiamo a chiuderlo ecco qua nel punto gremni senza bisogno di fare asole perché tanto il gremni ha già dei forellini e abbiamo fatto la bandanina in coordinato col nostro pantaloncino appunto per maschietto possiamo farlo da mettere al collo e per la femminuccia da mettere in testa come sostituzione al cappellino io spero che vi sia piaciuto questo progettino vi ricordo che vi lascio il link di taglia artisan sotto in descrizione se volete prendere lo stesso filato vi lascio poi all'inizio tutto tutto il materiale che ho usato quindi la metratura e il peso del filato che ho utilizzato spero come al solito vi sia piaciuto questo progetto se volete venire a trovarmi mi trovate sul gruppo facebook creando con luce franci se no lasciate pure qui sotto le vostre domande io ripeto spero vi sia piaciuto vi mando tanti baci spero di vedervi al prossimo tutorial ciao ciao da luci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ciao